Altro giro, altra corso, forse sarebbe più il caso di dire altro luogo, altro paesaggio e altro disegno. Oggi come potete vedere alle mie spalle ci troviamo in località Padregnana a Robecchetto, siamo sul ponte lungo il Naviglio e questo andremo fra un po' a raccontarvi. Stiamo proseguendo il nostro tour nel territorio appunto per raccontarvi luoghi, paesaggi, città, paesi, appunto tramite opere, tramite disegni, utilizzando matite, colori e fogli di carta. Un paesaggio che è un po' un luogo simbolo del territorio dove vengono parecchi ciclisti, persone a piedi per camminare ma anche gente da fuori. Adesso pian piano andremo a realizzarlo e vi faremo vedere l'opera compiuta. Siamo partiti anche con questa nuova opera, questo nuovo disegno. Come vi dicevamo siamo qui al ponte sul Naviglio in zona Padregnana a Robecchetto ed ecco come sempre, come vi abbiamo già fatto vedere anche negli altri video, si inizia a creare pian piano quello che poi sarà il disegno finale. Eccolo qui, il disegno pian piano sta prendendo forma, come vedete c'è la fontanella, c'è la stradina attorno, c'è il ponte sullo sfondo, gli alberi, la natura e sotto lo scorrere dell'acqua. Ci siamo, il disegno è concluso. Adesso Gianni, vediamo un attimino proprio il disegno. Eccolo qui, gli ultimi particolari sono stati fatti, come potete vedere questo è il paesaggio della Padregnana, come vi dicevamo, il ponte, il Naviglio, la natura attorno e adesso come abbiamo fatto anche per gli altri disegni vi facciamo vedere sovrapposto l'opera con il paesaggio reale. Grazie. Grazie.